Amici di Inocchioteca, eccoci qui a Milano dall'evento di Nokia, sono in compagnia di Alberto Matrone, salve buonasera, benvenuto e grazie per il tempo che ci dedica, lei è una new entry, posso chiamarla così? Non è facile dire new entry per una persona che ha lanciato, è stata una delle persone che ha lanciato il brand Nokia in Italia nel 1990, questo assolutamente, sicuramente, per quel che riguarda HMD per il mercato Italia, sono una new entry. No perché ovviamente i nostri utenti sono abituati a vedere l'altro al Alberto di HMD Italia, quindi? No ma Alberto di HMD Italia rimane il nostro general manager, la mia responsabilità, io sono un vice president a livello di regione, quindi la mia responsabilità è per il centralist Europe, Italia è uno dei paesi della mia responsabilità. Infatti voglio proprio partire da questo perché sempre i nostri utenti non hanno visto un po' la parte offline di questo evento che ricordiamo è stato in contemporanea anche a Londra, perché ci sono state delle novità, appunto, proprio per quello che diceva adesso un po' della riorganizzazione, possiamo dire così. Diciamo che l'Italia è rientrata come una mia responsabilità perché HMD a livello generale in termini di organizzazione ha deciso quali sono i paesi chiave dove dobbiamo dedicare molto più attenzione, quindi l'Italia è uno di questi paesi, sono nato in Italia, ho lanciato insieme a grandissimi colleghi il brand Nokia in Italia, quindi mi hanno chiesto di rientrare e avere una responsabilità, quindi Alberto a partire da luglio di quest'anno riporta a me in termini di general manager e la mia responsabilità è un vice president. Perfetto, e questo che cosa comporterà poi nel vivo un po' del lavoro che farete? Comporterà che dobbiamo definire assolutamente quali sono gli step successivi dove vogliamo arrivare e quali sono gli obiettivi dell'azienda e come ci aspettiamo che l'Italia cresca in termini di presenza capillare sul territorio dei nostri prodotti. Allora mi dà subito un assist per così dire, cosa vi aspettate dal mercato italiano se avete già qualcosa in mente? Il mercato italiano è un mercato dove ancora il brand Nokia è presente, dove ancora la risposta del cliente finale sul brand Nokia c'è ancora un attaccamento, il valore di conoscenza del brand Nokia in Italia è a livello del 95-96%, quindi quando si parla di Nokia in Italia c'è ancora uno storico molto importante, noi dobbiamo cavalcare quell'onda e convertire questa conoscenza nella voglia del consumatore finale di acquistare i nostri prodotti, i nostri nuovi prodotti che stanno arrivando sul mercato. E proprio oggi siamo qui per questo, perché avete presentato un nuovo prodotto. Abbiamo presentato il nuovo prodotto che è il Nokia 7, il Nokia 7.1, è il nostro nuovo prodotto che entra nel panorama di tutti i prodotti smartphone che abbiamo, è un prodotto con delle ottime caratteristiche, è un prodotto di fascia media diciamo, è un prodotto però che ha delle grandi caratteristiche, ha il Pure Display e quindi utilizziamo una tecnologia HDR, il Pure Display dà la possibilità al consumatore finale di utilizzare il prodotto in tutte le condizioni di luce, quindi al mare, sotto il sole, nel buio, nella metro, nel treno, nel bus, nell'aereo e quindi oggi sappiamo che il consumatore finale scarica moltissimi movie, quindi film, download in Netflix, Amazon Prime, quella, la riproduzione di quei movie assolutamente con questa tecnologia di Pure Display è assolutamente al massimo di quello che possiamo offrire su un prodotto di questa fascia di prodotti. Diceva che anche lei usufruisce di questi servizi, io utilizzo, io utilizzo esattamente lo dice proprio anche per esperienza personale, viaggio moltissimo, è la mia responsabilità a livello di paesi, ho 36 paesi sotto la mia responsabilità, quindi puoi immaginare quanto viaggio, insomma, prima di viaggiare quei due o tre filmetti ce li scarichiamo e magari ce li vediamo in aereo mentre viaggiamo e quindi il Nokia 7.1 è il prodotto ideale in questo momento. E poi anche tutto il reparto fotocamera che comunque... Perché ovviamente questo HDR, la tecnologia HDR non è soltanto per rivedere i movie, ma è anche per rivedere i video che abbiamo registrato, per rivedere le foto che abbiamo registrato, sulla parte, sulla parte camera abbiamo Zeiss, quindi abbiamo due camere da 12 e da 5 megapixel, abbiamo una camera frontale da 8 megapixel, quindi con questa tecnologia e con l'HDR sicuramente la qualità di quello che rivedremo a livello di immagini è superiore. E poi il design? Il design è quello che a noi piace raccontare, come nella mia presentazione vogliamo portare questo fashion design in un concetto di prezzo dove il consumatore finale non deve pagare moltissimi soldi per prendere un prodotto di alta tecnologia e utilizzarlo, quindi abbiamo ridefinito il design dei nuovi prodotti, sono completamente di vetro e hanno questo corpo interno di alluminio, quindi ricreiamo l'alluminio 6000 come body del prodotto e poi abbiamo rivestito con tutto glass, quindi questo è il Gorilla Glass che è quello che abbiamo usato anche soltanto sulla parte frontale nei prodotti Nokia 6 e tutti i prodotti che abbiamo lanciato in passaggio. Prezzo davvero molto interessante? Prezzo molto interessante, sul prodotto che è di 3 giga e 32 gigabyte di memoria, parliamo di un prezzo di 359 euro, quindi è un prezzo sicuramente interessante in un momento importante come questo che è la preparazione del Natale, quindi sappiamo esattamente in questo periodo dell'anno quali possono essere le vendite e questo prodotto sarà disponibile nelle prossime due settimane già negli scaffali, quindi arriveremo con questo prodotto per fine ottobre e proprio il momento ideale per il periodo dell'anno. Questo proprio lo diceva sempre la presentazione, che stanno viaggiando, sono pronti per essere messi sugli scaffali. I nostri istitutori che ci hanno accompagnati in questa presentazione li stanno aspettando. Quindi non bisogna aspettare, è una cosa che di solito dà molto fastidio. Noi abbiamo lanciato i prodotti lo scorso anno, però l'attesa è stata un pochino più lunga. Oggi in termini di qualità, in termini di quello che possiamo portare sul mercato, stiamo decidendo sempre più di accorciare il tempo tra la presentazione del prodotto e la disponibilità. È una cosa comune comunque, non solo anzi. È una cosa comune che... Però per noi, in un'azienda che lavora da un anno e mezzo, più o meno una start-up da un anno e mezzo, abbiamo lavorato in maniera molto, molto forte per garantire questo risultato. E fate bene, perché è una cosa comune che anche gli altri li fanno aspettare, presentano a febbraio e lanciano poi sul mercato magari a novembre. Però questo lo stiamo cercando e ripeto, siamo veramente contenti di avere già un prodotto qualitativamente importante che entra con un Android Oreo, però è già assolutamente pronto per l'update in Android P, quindi è un prodotto che nel momento in cui entra sul mercato, il consumatore lo compra e dopo pochissimo tempo avrà automaticamente durante la notte l'update alla nuova versione dell'Android P, quindi avrà un prodotto altamente competitivo e sempre nuovo prima della fine dell'anno. Questo è sicuramente il vantaggio ad oggi, uno dei vantaggi. Questo è il vantaggio di entrare nella piattaforma Android One e quindi avere questo concetto di Android One che guida tutto il processo dei nostri prodotti. Allora, se lei mi permette, avrei qualche domandina che ovviamente noi catturiamo dai nostri clienti. Siamo qui per voi, tutto quello al quale possiamo rispondere lo rispondiamo tranquillamente. Per il resto diciamo che ci organizzeremo nei prossimi prodotti. Noi ci proviamo, gliel'ho detto, noi ci proviamo poi a lei è libero di rispondere a quello che vuole. La prima è ovviamente sul top di gamma. Top di gamma. Top di gamma, perfetto. In questo momento questo è il nostro top di gamma, il nuovo lancio del prodotto. Poi vado a prendere l'aiuto del video. Allora, questo in realtà ci ha già risposto all'inizio, quindi appunto un po' i vantaggi di questa nuova riorganizzazione da parte di HMD. Qui mi ci chiedono, che sempre ci hanno segnalato, che leggo proprio testuali parole, alcune grandi aziende hanno contattato HMD Global per la fornitura di dispositivi Nokia per i propri dipendenti. Se ce lo può confermare e magari fornirci qualche nominativo. Noi stiamo lavorando con molte aziende e quello che vediamo oggi per i nostri prodotti abbiamo le grandi aziende che ci stanno contattando per un discorso di B2B. Non possiamo entrare nel dettaglio dei nomi delle aziende, però anche come abbiamo presentato abbiamo introdotto la parte del B2B per noi che diventerà sempre più importante. Nel concetto dell'Android One abbiamo il Pure Secure and Update, quindi la parte B2B ha bisogno di un prodotto che sia estremamente sicuro e questo può essere garantito soltanto dall'Android One. Quindi sicuramente stiamo lavorando con diverse aziende importanti sul mercato italiano e nel mercato internazionale per un discorso prettamente di B2B. Glielo confermo. Però non le confermo il nome delle aziende. No, va bene, ci abbiamo provato. Ultima domanda e poi la ringrazio. Abbiamo parlato del futuro, invece come l'avete visto il passato? Come avete visto questi mesi di Nokia sempre in Italia? Abbiamo imparato molto, abbiamo imparato molto dai nostri competitors, che devo dire che dobbiamo sempre avere un grande rispetto nei confronti dei competitors e dobbiamo apprendere e imparare anche perché noi abbiamo guidato un po' il mercato come Nokia in passato e i nostri competitors hanno appreso da noi, hanno implementato e hanno raggiunto determinati obiettivi. Questo probabilmente è il momento in cui dobbiamo fare un pochino dei passi indietro, apprendere da loro, capire quello che dobbiamo fare, ma le posso garantire una cosa, abbiamo le idee chiare di come dobbiamo approcciare i mercati e principalmente, come dire, anche perché sono qui in Italia, essendo italiano e come ho detto anche oggi, fiero di essere nuovamente qui su questo mercato, abbiamo le idee chiare di quello che serve sul mercato italiano e abbiamo le idee chiare di come lavorare. Quindi abbiamo implementato la nostra distribuzione, come Alberto raccontava, abbiamo due distributori sul mercato oggi che sono pronti a supportarci e a seguire le nostre indicazioni. Quindi credo vivamente in uno sviluppo molto forte di questo mercato. Benissimo, è quello sicuramente che tutti volevamo sentire, soprattutto i nostri utenti. Siamo tutti fortemente impegnati in questo, le posso garantire. Io la ringrazio per il tempo, grazie e complimenti per i nuovi prodotti. Grazie. Direi che è proprio tutto qui da Milano, un saluto da Francesco Colonna per Nocchioteca.net. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.